formazione al trading online anche se il forex trading è ormai alla portata di tutti e certamente non c'è bisogno di avere una laurea in ingegneria spaziale o scienze bancarie per potervi accedere e operare quale investitore privato è certamente necessario studiare la materia con disciplina prima di avventurarsi nell'investire il proprio capitale fosse esso anche di soli 100 euro e bene detto questo il trader inesperto si chiederà una serie di domande del tipo ma dove posso apprendere questa materia devo fare dei corsi dove essere presente personalmente per quanto tempo devo studiare quanto costa imparare è difficile da imparare il forex trading quanto si può guadagnare per esperienza di chi scrive partiamo dal primo punto e cerchiamo di essere chiari e coincisi per non perdere tempo e speranza vagando da un sito internet all'altro cercando di apprendere gratis qualcosa di diverso in ogni sito che si visita anche questo sito potrebbe essere strapieno di lezioni consigli strategie segnali eccetera che alla fine non fanno altro che ubriacare il lettore che sconfortato forse decide di gettare la spugna e purtroppo dedicarsi ad altro per cercare di guadagnare online magari giocando alle slot macchine ma speriamo che questo non sia il vostro caso gli inglesi hanno un proverbio che dice there is no sack fingers a freelance che tradotto significa non esiste mai un cosiddetto pranzo gratuito quindi in un modo o nell'altro prima o poi bisogna pagare per quello che si mangia per imparare facilmente e velocemente il forex trading in lingua italiana esistono solo due sistemi uno iscriversi a un corso forex che in base alla nostra esperienza possiamo affermare essere generalmente alquanto costosi due aprire un conto demo reale anche con pochissimo capitale in modo da poter accedere a più servizi gratuiti con un broker di alto livello e che offra ottima formazione gratuita ai propri clienti la maggior parte dei broker s da noi selezionati offrono eccellenti corsi di formazione gratuiti quindi un modo intelligente per imparare comodamente da casa con l'aiuto di professionisti ancor meglio se si ha una buona conoscenza della lingua inglese per poter seguire i webinar frequentare personalmente dei corsi non è assolutamente necessario essere presente fisicamente in qualche corso anzi grazie a internet è molto più comodo imparare studiare e seguire quanto di proprio interesse dal comfort di casa nostra tempo necessario per imparare purtroppo non esiste una risposta precisa alla domanda sulla durata dei propri studi ogni persona è diversa e quindi ognuno ha i propri ritmi di vita e relativi impegni che non possono essere schematizzati in tempi precisi in linea di massima già dopo qualche mese di studio e approfondimento dei mercati finanziari ci si dovrebbe districare abbastanza agevolmente il consiglio principale qui è che è di vitale importanza studiare e imparare a leggere i grafici finanziari senza di questo non si potrà essere in grado di capire nulla sulle coppie di valute in cui investire quando entrare quando uscire se conviene acquistare o vendere in relazione al tipo di trading che intendiamo fare e cioè entro la giornata entro alcuni giorni oppure a lungo termine di qualche settimana o mesi sempre in linea generale diciamo che i trader s professionisti del forex operano entrando e uscendo dalle posizioni aperte entro la stessa giornata o al massimo entro qualche giorno poi sta a ognuno decidere sul proprio stile preferito in cui ci si sente a proprio agio per poter trarre profitto quanto più agevolmente possibile dai propri investimenti costi quanto costa imparare è un capitolo che bisogna esaminare con attenzione se per costo intendiamo il prezzo di un corso completo di forex trading oppure in assenza di ciò sono da considerare il tempo impiegato per imparare o il costo delle perdite iniziali a cui si può incorrere se si decide di fare il tutto di testa propria dopo solo qualche giorno di lettura su qualche sito web strapieno di pseudoconsigli fortunatamente studiare il forex trading in italia costa ancora molto poco a confronto dei costi per fare lo stesso a londra dove si parliamo di migliaia di sterline per soli tre giorni di corso live dal vivo e il resto da studiare a casa tramite video o webinars si migliaia e non centinaia di sterline se si ha la capacità giusta non è comunque detto che non si possa davvero imparare a costo zero o a costi davvero minimi seguendo le direttive di alcuni siti professionali e broker descritti nei paragrafi precedenti e perché no acquistando degli ottimi libri sulla materia facile o difficile no il forex trading non è difficile da imparare se si ha la passione per il guadagno se si ha dimestichezza con l'uso del computer e internet non ci dovrebbero essere problemi se ci si applica seriamente e con dedizione nel seguire le regole di questo affascinante mondo che ogni giorno crea nuovi ricchi in tutte le parti del mondo dove è arrivata questa benvenuta tecnologia finanziaria i guadagni possibili diciamo subito che non si può diventare milionari se si apre un conto con soli 200 a 300 euro qualora invece ci si dovesse rendere conto che si è davvero portati per questa materia e che il 70 per cento delle volte che apriamo una posizione di acquisto o vendita di una coppia di valute o di qualsiasi altro titolo finanziario siamo in grado di trarre un profitto beh allora il discorso cambia non sono pochi quelli che sono partiti da zero e diventati trader professionisti nel giro di qualche anno lasciando il proprio lavoro per dedicarsi solo ed esclusivamente al trading online da casa e per questo guadagnando molto al di sopra di quanto guadagnavano con un lavoro regolare in ogni caso è sempre bene iniziare part time considerando il forex trading come una possibile seconda fonte di reddito